Si appresta ad essere ripulita la contrada bordea di Sciacca, zona che più delle altre è diventata nelle ultime settimane l'emblema del degrado in cui versano molte località periferiche trasformate in discariche abusive. Si tratta di un intervento programmato che dovrebbe concludersi domani e che è stato velocizzato per evitare che la zona possa presentarsi in uno stato indecoroso il prossimo 4 ottobre durante il passaggio del Giro d'Italia sulla strada statale 115. L'aria infatti continua puntualmente a trasformarsi in discarica. L'inciviltà non accenna a diminuire e così si cerca di correre ai ripari per evitare che la città faccia un'autentica figuraccia in occasione del Giro d'Italia, una manifestazione sportiva che come noto viene ripresa anche dall'alto dalle telecamere di un elicottero. Si tratta dell'ennesimo intervento di pulizia nella zona e che verrà pagato extra alla ditta che svolge il servizio in quanto queste attività non rientrano nel contratto. Naturalmente l'auspicio è che tale bonifica non faccia la stessa fine dei precedenti interventi resivani alcuni giorni dopo la pulizia con la zona e le varie bretelle ritrasformate in poco tempo in nuove discariche a cielo aperto. Naturalmente l'auspicio è che la stessa fine dei precedenti interventi resivani alcuni giorni dopo la pulizia con la zona e le varie bretelle ritrasformate in più.